ciao bimbi ciao ciao guardate cosa abbiamo trovato oggi in sezione una scatola lisa guarda andiamo a vedere cosa c'è dentro andiamo a vedere c'è una bottiglia di latte e poi cosa c'è ancora dei mattoncini colorati lisa per fare le torri che belli bimbi tutti colorati e poi ci sono due cappelli che belli e uno per me guardate avete capito bimbi c'è il libro di mattia che va all'asilo e lo ricordate bimbi lo leggiamo insieme ciao sono mattia oggi è il mio primo giorno di asilo e la mamma mi sta accompagnando la mamma si mette a parlare con una signora ciao mattia mi chiamo lisa e sono la tua maestra mi dice la signora io mi guardo intorno un po perplesso e la mamma se ne sta andando però mamma non lasciarmi qui da solo voglio venire con te grido mentre i grossi lacrimoni mi scendono dalle guance nella classe ci sono tanti bambini io non conosco nessuno mi sento molto triste e solo ora lisa ci fa vedere una scenetta interpretata da burattini ciao mi chiamo mino dice lo gnomo ciao io sono lella la pecorella i due raccontano una storia molto simpatica io rido tanto e anche il bambino seduto accanto a me sembra divertirsi il suo nome è leo ora giochiamo piegare la carta dice lisa leo si siede di nuovo accanto a me piegare la carta è molto divertente alla fine riusciamo a creare dei bellissimi cappelli sul mio la maestra lisa scrive il mio nome mattia io e leo che è diventato il mio migliore amico beviamo il latte insieme con in testa i nostri cappelli di carta naturalmente poi giochiamo con i cubi insieme costruiamo una torre altissima ehi è tornata la mamma ciao mattia torniamo a casa chiede la mamma ciao maestra lisa ciao leo ciao a tutti ci vediamo domani